Il Parco del Temare è uno dei parchi pubblici più interessanti della città perché oltre ad essere un patrimonio architettonico e ambientale è anche aperto al pubblico, quindi questo significa che nelle varie iniziative e attività che l'ente filistico fa propone quello che è un parco straordinario, unico nel suo genere, tra l'altro nel cuore della città. E questa è un'iniziativa che anticipa le iniziative natalizie che abbiamo messo in campo, tra l'altro la nostra si chiama la proprio Christmas Park Festival, che anticipa anche l'apertura di Ederlandia, che è il parco giochi della città di Napoli, che sarà aperta e a breve e che proseguirà subito dopo un'iniziativa come questa che abbiamo voluto a sostegno anche degli astroni, come già vi ha anticipato forse la Presidente, nel rispondere in maniera positiva a qualche segnale anche culturale rispetto a quello che è stato un'estate nei nostri territori, che ha visto la devastazione di aree molto importanti, non solo gli astroni, pensate alla parte principale del patrimonio arboreo del Vesuvio andato, quindi su questo bisogna che tutti, anche noi che siamo un ente pubblico, si pongano come protagonisti di una rinascita anche delle capacità e di una cultura ambientale che in questa città ha bisogno di guadagnare più spazi.